Benvenuti in questo video, sono Luigi Guardino, oggi ragazzi siamo ritornati perché... Perchè i cd? Eh sì, sto attentito. Eh, oggi devo rompere dei cd. Eh, vecchi ovviamente, perché a me non mi servono proprio. Sì, sì, il mio sole mi sta peccando, guardate, devo rompere, andiamo, mio Dio! Vabbè, eh, iniziamo. Eh, ovviamente, prendiamo il cd, distruggiamolo, poi prendiamo gli altri e li scassiamo tutti. E questi? Sì, tutti, ovviamente. Ok, come potete vedere, nel prossimo video ho già distrutto uno, però voglio distruggere ancora più assai. Non si è scassato, non si è scassato. Ok, ragazzi, è impossibile che, anzi, non si scoscia mai. Ok, ragazzi, sto scomazzando, non so. Madonna, ma di quella, eh! Ma di quella! Andiamo pure, andiamo dentro perché non vi l'ho fatto vedere bene. il cd che, ovviamente, è Mr. Luigi! Ehi, è Mr. Luis! È Mr. Luis! Ovviamente, ragazzi, come potete vedere... Andiamo, andiamo di qua, perché c'è il mio nonno che mi sta uccidendo. Eh? No, è tutto qui. Allora sta lui, no? No, no. Hai visto a lui o c'è? No! No, 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 basta! Non mi fai finire il video! Che ti faccia? Niente! E tu, beh, non ti voglio far vedere il suo video! Allora, non mi faccia mai. No! Uno su, uno su. No! Come sei a due, eh! Uno, due... Basta! Il personale! Ok, ragazzi, scappiamo via! Andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Auro! Oh! Ma mi non tu ci dì? Anche, ragazzi, me lo sto... Ok, va via, 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 scappiamo via! Ok, ragazzi, ho preso lui! Ok, perfetto! Ok, ragazzi, vedete questo, vedete? Ora lo schiatto, ok? Eh, c'è zomato! Cosa? Ma cos'è? No, 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 ferma! Ferma! Anzi, niente, non ti è scassato! Non ti è scassato, eh! Oh! 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 Sto scappando il disco! Ragazzi, stava scappando, stava rotolando, dove? Tutte le parti! Eh, mamma! Vedete, ragazzi, si è fatto, come potete dire, si è zippato un pochettino, ma... Sto facendo! Sto facendo! Ok, ok, ragazzi, aggia, aggia, che male, raga! Ti fai male o no? Non mi faccia! Sì, ti fai male! No, no! Apri il caggiale, vieni qua! No! Ok, ragazzi, come potete dire, sembra che si è bruciato! Cioè, raga, sembra che si è bruciato, ma di... Oh, madonna mia, ragazzi, cioè... Una cosa che... 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 Voi... Si è scassato! Ma no! Anzi! È distrutto! Guardate tutti i suoi pezzi! Guardate qua! Tutto bruciato! Ok, ragazzi, è distrutto! Quindi... Un altro po' e... E lo andiamo a distruggere! Tutto! Quanto! Questo! Ebbia! Cosa? Ti è rotto? Sì! Lo vedi? Tieni, nonno! E guardi... Attenzione! Ma lei si è rotto! Ah! E perché l'hai rotto, nonno? Perché non mi serve! Ebbè, si è rompito! Eh, sì! Dammelo adesso! Lo devo buttare! No! 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 Nonno ti prego! Dammelo! Nonno! Nonno ti prego! Ah! Nonno! Dammelo! Dov'è? No! Basta con i pezzi! Allora, venite! Dammelo! Eh, dammelo! Uno solo! Uno! Basta! No! Basta! Tre, tre! No! 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 Uno! Due! E tre! Dammi! Oh, no! Tre, pure tu! Io ce l'ho rubato, ragazzo! L'ho rubato! L'ho rubato! L'ho rubato! L'ho rubato! L'ho rubato! Via! Via! Adonio! Quanto è stato anche questo! Ok! Dammi un altro! Ciao! Osserà! Si figli tu! Si figli tu! Non figli tu! Oh, mio Dio! Ti vietti! Ti vietti! Ti vietti! Ah! Questo qua è mio! Via! Via! Oh, mio Dio, ragazzo! Oh, no! Via! Oh, mio Dio, ragazzo! Che l'ho fatto? L'ho seminato il nonno! Ok, ragazzo! Di studio! Anche lui! Felix! Ok! Perfetto! Ma ci si è fatto un po' di graffi, però... Adesso si piessa tutto! Tutti i pezzi gialli! Che penics! Si! Guardate qua! Distrutto! 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 Ti è fatto! Perché, ragazzo, mantieni il telefono di mia sorella! Oh, mio Dio, ragazzo! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Dammi, buttalo! Qua! Sì! Qua! Buttalo! Qua! Butta! Vai! No, no, no! Là! Così, se non si vede! Ecco! Qui ci ho buttato! Bravo! Ok, raga! Mi sembra che... Ho buttato il Tureno! Ovviamente... Ho buttato il Tureno! Si è scassato! Ma dove è volato sto disco? Ma dove è volato? Ma che... Ma è il nostro! No! Non è! Ragazzi, ma che... Oh, ragazzi! Ma che è questi dischi che volano? Ragazzi! Ma che cazzo sta... Ragazzi, non capisco! Oh! Ragazzi! Ragazzi, mi stanno volendo dischi per appertutto! Guardate! C'è arrivato da lì sopra! Boom! C'è, ragazzi! Che voi non sapete! Oh, mio Dio! Madonna mia! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Ragazzi! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Ragazzi! Oh, mio Dio! Oh, mamma mia! Ok, ragazzi! Basta! Ehi! 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 Allora, il tuo vuole apposare! Il tuo vuole! No, così! Anzi! Oh, mio Dio! Aspetta, da un altro po' è finito, ok? Ok! Ciao! No, appunto, vuole apposare! Spero che questo video vi sia piaciuto! Mettendo un bel pollice in su! Iscrivetevi al canale! E niente, ragazzi! Vediamo un bel pollice in su! Ciao, ragazzi!